Centinaia di utenti che erano finiti in un complesso raggiro che avrebbe fruttato circa mezzo milione di euro. Adesso il sito di e-commerce Leonphone è stato posto sotto sequestro preventivo dalla polizia postale di Arezzo per il reato di truffa. Le indagini erano partite lo scorso maggio a seguito della denuncia di un eretino che aveva acquistato sulla piattaforma uno smartphone dal valore di circa 700 euro mai ricevuto. Anche altri utenti avevano sporto denunce relative allo stesso portale che, offrendo in vendita smartphone, pc, tablet ed altro materiale informatico a prezzi estremamente vantaggiosi, attraeva ignari compratori che dopo aver pagato però non ricevevano la merce acquistata. Ma non solo, il sito in questione era stato oggetto anche di numerosi feedback negativi da parte di utenti circa 200 che avevano addirittura creato una pagina Facebook per segnalare le truffe. Le indagini della polizia postale adesso hanno portato alla chiusura del sito. Si tratta di uno dei primi sequestri preventivi in Italia di un portale di e-commerce. La polizia postale ha anche denunciato per truffa la titolare responsabile legale del sito. Si tratta di una quarantenne di Roma.